Buonasera a tutti, ci troviamo nel concessionario AutoPiù SRL di Bologna in piazza 7 novembre numero 8 per presentarvi questa grande novità perché da questo mese la famiglia Stefanelli porterà il Marche MG presso il concessionario AutoPiù qua in Porta Lame. Ora vi presenterò le offerte del mese ricordando oltre al concessionario di Bologna siamo presenti con il Marche MG Anca Ferrara e infatti sia per i residenti di Bologna, provincia, Ferrara e provincia abbiamo una scontistica extra delle offerte dedicate proprio ai nostri residenti, ai nostri vicini di casa. Partiamo con le offerte del mese, partiamo le offerte per MG Motors del mese di febbraio con una vettura full elettrica un grande successo, una delle vetture rapporto qualità prezzo migliori presenti nel mercato ed è MG4 che qua vediamo nella colorazione promo questo mese azzurra con la versione luxury, la più accessoriata per intenderci partiamo proprio dalle vetture elettriche perché questo mese sono partiti gli incentivi statali per il 2024 quindi questa vettura può essere vostra o a 199 euro al mese oppure a 22.790 euro quindi perché è una vettura anziana da dover rottamare ha fino a 11.000 euro di incentivo oltre ad avere uno spazio molto confortevole, una linea molto ricercata e moderna a tutto quello che è una vettura elettrica acquistata in questo momento deve avere un'autonomia a partire da 350 km per la versione enter level e fino a 550 km per le versioni più belle come quella che abbiamo qui in visione quindi un'autonomia adatta a tutti ricarica fino a 11 kW quindi una ricarica veloce, rapida e abbiamo anche un interno molto minimale come dopo andremo a vedere quindi con tutto molto essenziale e intuitivo e facile sia da sfruttare sia da capire e facile anche mentre si guida e ora continuiamo con una delle vetture più richieste del marchio MG che è MG ZS ricordo che questa vettura è disponibile in due motorizzazioni che è il 1500, ora qua che vediamo l'allestimento enter level che è l'allestimento comfort abbiamo anche l'allestimento luxury che dopo andremo a vedere e col motore 1500 abbiamo anche la possibilità di montare in garanzia ovviamente l'impianto GPL abbiamo anche qua un motore turbo 1000 sia manuale che automatico nella versione comfort abbiamo già tutto quello che si cerca in una vettura ha un prezzo veramente interessante perché può essere vostro a 99 euro al mese questo mese oppure grazie agli incentivi che MG da di rotamazione a partire da 16.090 euro dopo avervi fatto vedere la versione comfort vi faccio vedere anche una versione luxury che qua come potete vedere è riconoscibile anche a vista dal tettuccio panoramico apribile è una versione turbo benzina 1000 questa è la più completa quindi ha già tutti gli address di sicurezza i sedili in pelle riscaldati, fari full led e navigatori interno già presenti 5 porte e 5 posti ovviamente questo è 4,30 metri, un bagagliaio ampissimo fino a 500 iti dopo vi farò vedere che è una comodità per le grandi famiglie anche qua nella versione più completa siamo sotto ai 20.000 euro quindi questo mese è una vettura da non farvi scappare vediamo la nostra presentazione con la vettura più grande della casa MG Motors che è la HS che è disponibile anche in versione ibrida con nome di EHS ma sono vetture analoghe qua abbiamo una versione comfort che è praticamente identica alla versione luxury tranne per il tettuccio panoramico apribile che qua non l'abbiamo in visione HS nei suoi 4,50 metri ovviamente è una delle vetture più capienti del segmento di MG il motore è sempre un 1500 sia con cambio manuale che con cambio automatico oppure abbiamo la versione plug-in con 50 km di autonomia in full elettrico sempre con un motore 1500 con rottamazione l'offerta questo mese parte da 199 euro al mese per il modello HS oppure andiamo a 239 per il modello EHS in plug-in hybrid grazie per avermi seguito con le offerte di questo mese ricordando a tutti i residenti di Bruneo e Ferrara di soffrire l'offerta che abbiamo dedicato a loro sia nel nostro concessionario qua in piazza 7 novembre numero 8 a Bologna sia nel concessionario di via Bologna a Ferrara vi ricordo anche di seguirci per aggiornarvi sia sulle uscite delle vetture sia sulle offerte su nostre pagine facebook, instagram e tiktok ma anche sul nostro sito per vedere anche le nostre vetture a chilometro zero con questo vi saluto e vi auguro una buona serata oh bellissima, grazie l'ho appena comprata con gli incentivi Citroen con o senza rottamazione gli incentivi Citroen sono per tutti C3 e tua da 69 euro al mese una delle auto no hybrid, no elettriche più vendute in Italia è Citroen C3 che ora vi presentiamo questo mese con un'offerta strepitosa a 69 euro al mese grazie agli incentivi statali disponibili con i suoi 4 metri è una delle vetture che abbiamo anche noi in vendita più versatili e confortevoli con un ottimo bagagliaio e misure perfette con consumi dai 20 chilometri al litro fantastici sia per l'autostrada sia per la città è disponibile col suo motore 1.283 cavalli benzina qua stiamo vedendo una versione max una delle versioni più carine che è disponibile anche col cambio automatico abbiamo anche delle chilometri zero a parte interessante questo mese da venirci a provare e a trovare per farvi presentarvi un'offerta nel caso farvi un'offerta personalizzata anche con il pagamento rateale adesso vi faccio vedere uno dei SUV più compatti disponibili sul mercato con i suoi 4 metri 17 è Citroen C3 Cross che qua vediamo nel nuovo allestimento con i fari full led questo mese ha fatto delle chilometri zero sia benzina che le ultime vetture disponibili anche in 1.500 diesel a partire da 16.900 euro vi ricordo che anche questa si può pagare in comodo rate mensili e può essere vostra a partire da 99 euro al mese ottimo spazio, ottimo bagagliaio comodità con i suoi sedili memory e ammortizzatori idraulici fantastica vi consiglio di venire a fare qualche preventivo e di non farvi sfuggire le vetture disponibili col motore 1.5 diesel adesso vi presentiamo il SUV più grande di casa Citroen che è Citroen C5 Aircross sospensioni idrauliche, sedili memory cambio manuale automatico e dopo vi presenterò anche le nuove motorizzazioni questo mese può essere vostro da 169 euro al mese C5 non è disponibile soltanto con l'inversione termica quindi 1.2 130 cavalli benzina manuale automatica o 1.5 130 cavalli diesel ma anche disponibile in due motorizzazioni ecologiche una Maeda Hybrid che è una nuovissima novità in casa Citroen che è l'unica vettura disponibile con questo tipo di motorizzazione oppure col classico plug-in IBM che è già presente da qualche anno questa vettura in entrambi i casi queste versioni ecologiche sono disponibili da 299 euro al mese abbiamo anche qualche chilometro zero a partire da 28.900 euro da poter venire a vedere e a provare il nostro concessionario introducendo le vetture elettriche abbiamo anche disponibili la C5X sempre in plug-in hybrid a partire da 399 euro al mese e anche la C4 in versione full elettrica C4 e C4X poi hanno un'importante novità questo mese sono disponibili con il tasso zero in versione leasing anche per i privati quindi hanno un'offerta incredibile perché entrambe sono disponibili da 199 euro al mese e sfruttiamo la possibilità di avere il tasso zero inoltre questo mese è anche ordinabile la nuova C3 elettrica che si può preordinare con arrivo entro 90 giorni anche qua c'è un'ottima offerta perché grazie agli incentivi statali la versione base può essere vostra a 18.900 euro oppure può essere vostra la versione full option che si chiama Max 129 euro al mese per concludere vi presentiamo anche C4 e C4X che questo mese sono disponibili da 129 euro al mese entrambe le vetture sia la C4 che la C4X hanno sedili memory, sospensioni idrauliche e sono delle berlina comode sia per chi serve spazio sia per chi vuole una vettura Citroen un pochino più sportiva ricordandovi di seguire le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok e il nostro sito ufficiale per le promozioni e le offerte sia nuovo che chilometro zero di questo mese vi auguro una buona serata bellissima, grazie l'ho appena comprata con gli incentivi Citroen con o senza rottamazione gli incentivi Citroen sono per tutti C3 e tua da 69 euro al mese Signore e signori, buonasera da Alessandro del DS Store di Bologna di via Paolo Bovicampe G4 questa sera cominciamo dalla DS4 un gioiello di casa DS che ha riscosso un grandissimo successo e che vedete qui nella versione Cross Opera che è praticamente il top di gamma una vettura con praticamente tutto di serie Head-up display, tetto apribile panorama di serie sensori di parcheggio anteriori, posteriori telecamera 360 insomma veramente con tutti i comfort questa ad esempio è una vettura a chilometri zero in pronta consegna e come questa abbiamo anche altri modelli sia in allestimento Bastille Business Rivoli o Performance Line quindi vi aspettiamo nel nostro showroom per illustrarvi le vetture a chilometri zero disponibili vi invito anche a visitare il nostro sito internet dsbologna.it e i nostri social su Facebook, LinkedIn e Instagram e siamo in compagnia ora del responsabile dell'usato di Cisa 2000 quindi Ignazio te la parola ciao Rosy ciao bentornata ma soprattutto bentornati a voi qua ci troviamo nella sede dell'usato di Cisa 2000 che è diventata anche sede spoticaro ufficiale cosa vuol dire questo? qui da noi avrete solamente tanta scelta ok? quindi qualsiasi tipo di macchina che voi possiate cercare qua la trovate la scelta parliamo di 200 macchine usate quindi un numero veramente importante che a rotazione vengono sostituite da altre quello che dico sempre ogni volta che ci incontriamo è di venirci a trovare per toccare con mano la scelta che riusciamo a offrire ai nostri clienti ai nostri servizi e soprattutto i nostri ragazzi che sono qua apposta per accontentare appunto le esigenze di tutti quelli che ci vengono a trovare guardate sempre sul sito perché lì già c'è la vetrina di tutto l'usato che abbiamo a disposizione poi oltre all'usato troverete anche le chilometro zero quindi la scelta diventa sempre più ampia più ampia ripeto veniteci a trovare contattateci in qualsiasi modo noi siamo in via Bentini 111 a Bologna e siamo qua che vi aspettiamo come sempre un saluto e un ringraziamento speciale a te grazie a te Ignazio e mi associo al tuo invito venite qui a scegliere la vostra vettura che sia aziendale chilometri zero d'occasione perché c'è veramente una scelta infinita grazie grazie a tutti grazie a tutti